Non è più in imminente pericolo di vita il tredicenne che sabato scorso era precipitato per 5 metri nel torrente Resco dopo che aveva ceduto la staccionata del ponte Annibale nel comune di Castelfranco Pian di Scò alla quale si era appena appoggiato. Il ragazzo resta ricoverato in coma farmacologico al Meyer di Firenze ma in condizioni stazionarie. Il tredicenne lo scorso sabato aveva preso parte ad un'escursione organizzata da una parrocchia di Rifredi a lanciare l'allarme attivando immediatamente la macchina dei soccorsi erano stati gli accompagnatori. La procura di Arezzo intanto ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di lesioni gravissime al momento senza indagati. Si dovrà cercare di comprendere se ci siano eventuali responsabilità ovvero imperizi, imprudenze, negligenze, inosservanze di leggi o regolamenti. Dovrà poi essere stabilito con certezza di chi siano le competenze su quel ponte presente in un territorio che sembrerebbe ricadere nel comune di Castelfranco Pian di Scò. Il sindaco Enzo Cacioli al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni. Sembra che comunque nessuno avesse mai segnalato che la staccionata, adesso sbarrata da una transenne e da un cartello di sequestro, fosse pericolante. Il sequestro adesso è stato convalidato dal PM Emanuela Greco, titolare dell'inchiesta. Il sequestro adesso è stato convalidato dal PM Emanuela Greco.